Il Senato ha approvato ieri in serata, in sede di conversione del decreto sblocca cantieri, l'emendamento presentato dalla maggioranza per prorogare al 31 dicembre la scadenza della restituzione delle tasse sospese dopo il sisma del 2009 alle imprese dell'Aquila e del cratere sismico. I 124 imprenditori e professionisti che dovranno dimostrare di non aver fruito di quelli che l'Europa identifica come aiuti di Stato, hanno 500 giorni in più prima che scatti di nuovo il termine della restituzione. Una boccata d'ossigeno che però non cambia la situazione perché resta da risolvere il problema alla radice. In un contesto politico molto incerto inoltre, con le crisi di governo continui e adesso lo spettro della procedura di infrazione da parte dell'Europa per il debito italiano eccessivo, all'orizzonte si staglia il rischio che la questione tasse slitti ancora uscendo dall'agenda di governo. Occorre fare fronte comune politicamente, è l'appello che lancia Ezio Reinaldi, delegato alla ricostruzione per Confindustria L'Aquila, che anticipa presto nascerà un tavolo tecnico incaricato di seguire la vicenda direttamente con le nuove istituzioni europee. Credo che sia fondamentale utilizzare adesso questi mesi, con un'interlocuzione di tecnici ministeriali, che credo abbiano preso a cuore e quindi chiedo fortemente di non speculare su alcuni giochi politici, essendo un argomento tecnico, essendo portato avanti con i tecnici, ma che deve avere una forza valenza e appoggio politico. Purtroppo va risolta, ripeto, con una procedura che adesso dobbiamo stringere e per stringere non capiamo anche l'emendamento. Ogni volta soffriamo, ogni volta è stato bocciato prima e poi è stato rivotato direttamente senza passare in commissione. Quindi grazie sicuramente. Io in primis credo che ho visto che la Lega si è espressa qualche giorno fa con questa volontà e l'ha rispettata. Bene, però non capisco neanche chi, qualcuno che si possa essere astenuto. Io non so adesso il voto dei nostri parlamentari tutti. Il PD l'ha appoggiato, bene, grazie. E voglio dire, ma ci aspettiamo che tutti lo debbano sostenere. Perché il concetto qualcuno si astiene? Non lo capisco, cioè non capisco come si possa, dipendentemente dai colori politici, su un argomento del genere non essere coesi.